salve ragazzi oggi vi farò sentire delle vecchie registrazioni audio che sono venute comprando il mio geloso g541 ne ho molte altre tutte sono venute con le loro scatole con le loro cover ne ho veramente molte quindi credo che vedrete un bel po di radio registrazioni comunque basta parlare passiamo a farvi sentire un bel po di radio un bel po di radio a 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